Alessandra Piarelli è uno dei personaggi più amati e conosciuti della televisione degli anni 2000. Grazie alla sua partecipazione ad Uomini e Donne con la quale ha ottenuto un grandissimo successo. Nella puntata di Oggi di Vieni da Mela Piarelli ha raccontato della sua disavventura. Ho rischiato la vita nel 2006, dopo un intervento di chirurgia estetica. E' stata una parentesi bruttissima della mia vita ma me la sono cercata perché non avevo bisogno di fare quell'intervento. Quello che mi circondava all'epoca mi portava a non piacermi. Ho fatto un mese di ospedale e ne ho pagato le conseguenze per un anno. Ho avuto tanta paura. .